Aspetta, ho letto un commento cattivo Anna Leggi, ma scusate però non mi sembra il caso Perché non mi sembra il caso? Che Lion ha fatto la caccia al tesoro facilissimo Non viene mandato a processo, non gli viene detto niente Mentre se qualcun altro lo fa, subito a morte Mi le sgrideranno, allora Boys and girls, anzi girl Perché una che l'ha scritto A me pare che sono le 8 E non abbiamo mica finito Cioè siamo all'indizio 6 E poi non pensano più leggi 8 indizi Più il tesoro Che è il nono Quando io ho cazziato Alex e Chico Perché la loro caccia era facile E perché quella caccia era corta, erano 6 indizi Alle 8 avevamo già finito Ma avete mica finito E poi c'è anche da dire che ci ha aiutato molto E vi ho aiutato perché altrimenti Finivamo alle 9 e mezza Ma sei dicendo che di quel tesoro è impossibile Adesso aumenterà la difficoltà ovviamente E poi